Si torna a parlare del raddoppio della Ferrovia Roma-Pescara. L'Assemblea Provinciale del PD che si è tenuta a spoltore nell'Aula Consigliere del Comune ha condiviso le proposte alternative al percorso ferroviario progettato da RFI per le tratte Brecciarola-Manopello-Scalo-Alano e per la tratta di Scafa presentate da Tommaso Di Biase in qualità di responsabile provinciale del settore territorio, ambiente e città. Per il Partito Democratico della provincia di Pescara non c'è dubbio la Pescara-Roma è un progetto strategico da mandare avanti tuttavia le sue criticità vanno affrontate in maniera che l'impatto ambientale sul territorio e sui centri urbani non sia pesante così come si sta delineando nel progetto di RFI. Nell'Assemblea Provinciale di sabato scorso a spoltore il PD ha condiviso delle proposte che si sono poste come alternative al tracciato definito dalla ferrovia, da RFI. Il tracciato alternativo per quanto riguarda i centri di Brecciarola e Manopello-Scalo è un tracciato già noto e conosciuto che già le stesse ferrovie nel 2008 avevano proposto. Cioè si tratta di usare la bretella che penetra all'interno dell'interporto di continuarla fino a ricongiungerla sulla ferrovia nel territorio di Alanno. Questa soluzione che è stata studiata e presentata anche da me è una soluzione che è condivisa anche dalle comunità locali non soltanto dalle amministrazioni locali di Chieti, di Manopello dal comitato che si è organizzato a Manopello-Scalo da un comitato di cittadini che è attivo e che vuole dare un contributo. Per questo motivo il PD non solo afferma la necessità di continuare e di realizzare questo tracciato della Pescara Roma ma vuole dare un contributo anche a risolvere le criticità che ci sono nel tracciato attuale. Nell'assemblea si è discusso anche di un'ipotesi alternativa che riguarda Scafa e dove il problema esiste ugualmente. Liberando questi centri di brecciarole e di Manopello e di Scafa si otterranno dei vantaggi enormi per la struttura urbana per la vivibilità di questi centri che potranno realizzare progetti inediti, importanti di riqualificazione e rigenerazione urbana.